Benvenuti nel mio canale, stasera proviamo a fare il porridge, ho messo lo schermo qua così potete vedermi Allora, attenta amore mio, allora Allora, volevo fare il porridge raga in versione cheesecake, non lo so Allora, siccome è 40 grammi, ne metterò 30 Ok, 30 grammi di fiocchi d'amena Acqua Ok Vediamo questo a bilancia Così non lì ci guardiamo in faccia E Prendiamo, non so se mi vedete, il latte E la filadelfia Ok Proviamo Non lo so Ovviamente raga, pochissimo di tutto perché già c'è lo yogurt Che ovviamente va Allora, qui sempre i 30 ml Ma io Ormai vado a occhio Allora Adesso andiamo a girare Aspettate che prendo il bicchiere Ok Poi dobbiamo mettere dentro alla mena Ah sì, la mena Fiocchi d'amena Un cucchiaino di filadelfia Proprio un cucchiaino raga Ok Mettiamo il nostro dolcificante E oggi andrò a fare la cremina con cacao amaro Ok Facciamolo Cuocere Ok Oggi niente cocco Niente perché No Poi volevo rompere una fetta biscottata sotto Proprio per dare di quelle Però ho detto no Perché cioè O metto una cosa O metto una già così è troppo Ok Ok Un altro minuto Ok Adesso Si è cotta? Non lo so Sapete Vado a mettere un altro po' di acqua raga Ho messo un altro po' di acqua E lascio cuoce Un altro po' Perché Mi sembra un po' crudina ancora Con il fatto che ho messo Meno acqua E meno latte Ok Qua si sta cuocendo meglio adesso raga Ok Bella cremina Chissà se viene sto cosaci schicchi raga Non lo so Scusate ma sto facendo Ok Mettiamo lo yogurt Ne metto metà Ne metto metà eh Perché già Ne ho messo metà Un cucchiaio di filadelfia Ok Andiamo a vedere Adesso Ok raga Mi spero che sia buono Adesso che si è tutto amalgamato Leviamo tutto Adesso che si è tutto amalgamato Amalgamato Tipo cheesecake Dai raga Ok Ora prendiamo Un bicchierino Oddio non ce l'ho Eccolo No mi si è sporcato il bicchiere Vabbè non fa niente Cacao amaro Ah raga eccomi Adesso facciamo la cremina Come stavo di prima Ci ho messo il cacao amaro Quindi Non ci metto manco il dolcificante Niente Ok Aspettate che No No Più acqua volevo mettere Però Wow È scurissima Penso che sia normale No Lo metto un altro po' d'acqua Perché è dura Troppo dura raga Eccomi Sto girando 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 Ok raga La nostra cremina Scura E dall'odore Si sente che amara Va bene così Andiamo a mettere Qui Ok Un po' di là Bravo Olè raga Eccomi qua Adesso andiamo a metterla in frigo E niente raga Ci vediamo alla prossima ricetta del porridge Qui ho usato anche la filadelfia Speriamo che domani sia buono E niente raga Eccolo Ciao raga Ciao raga Ciao